Turismo, cultura e enogastronomia, lo scambio è possibile, Italia e Russia cominciano a collaborare grazie all'intervento dell'Istituto Alberghiero di San Benedetto che proporrà degli scambi con gli studenti russi nei prossimi mesi. Perché sono molto interessati a conoscere le nostre marche, in modo particolare il Piceno, a conoscere i prodotti del Piceno, hanno chiesto anche di fare dei master chef e quindi dei corsi molto particolari sulle nostre cucine e non disdegniamo anche di poter reciprocamente contracambiare la visita, cioè che la città che si trova un po' al confine con l'Asia e quindi raccoglie tutto ciò che riguarda il mondo russo orientale è una porta aperta verso un territorio che conosciamo poco. Sono molto interessati alla cucina e ai prodotti tipici che sono molto lontani dalla loro cultura, quindi l'uso dell'olio ma soprattutto l'uso della cucina mediterranea, molto apprezzata, conosciuta, ma molto apprezzata. E quindi la possibilità di entrare direttamente nelle nostre scuole, nei nostri luoghi, nei nostri territori e poter avvicinarsi in maniera più affattiva. È interessante, ho notato molto interesse anche dal punto di vista paesaggistico e già che insieme all'assessore abbiamo mostrato anche le nostre belle foto, diapositive, immagini del mare, chiaramente un mare accogliente, sabbioso, pulito.